È spesso complicato parlare di bellezza perché è una di quelle parole che viene usata in così tanti contesti che è difficile capirne il vero significato. È un po' come la parola amore di cui abbiamo già trattato in questi video. È difficile ricondurla ad una comprensione condivisa in quanto esso spessa sembra sfuggirci. Viene usata spesso a sproposito. In passato, nel periodo romantico, alcuni autori come Igino, Ugo Tarchetti esaltavano nei loro lavori la bruttezza. Ma questo a me sembra comunque un'esaltazione della bellezza che in questo caso veniva vista come in contrasto. Lo scrittore Vladimir Solovev diceva «Presso molte specie di uccelli i complicati ornamenti dei maschi non solo non possono avere alcun valore utilitaristico, ma sono anzi direttamente di impaccio perché si sviluppano a scapito della mobilità, ostacolano il volo e la corsa e tradiscono la loro presenza di fronte al nemico che li insegue. Ma evidentemente per loro la bellezza è più importante della vita». Questa è una citazione tratta da un libro che si chiama «Sulla bellezza». Addirittura la bellezza quindi è più importante della vita secondo quello che ci dice il grande scrittore e in fondo può essere così. Dio stesso si compiace nella bellezza della sua creazione, si dice nella Bibbia, e Dio vide che era bello. Questo perché la bellezza è eterna, una volta che è rilasciata rimane lì per essere ammirata. Nel caso della bellezza umana essa, come sappiamo, sfiorisce ma rimane la memoria che la ravviva e la fa rifiorire ancora nelle menti di tutti coloro che conservano il ricordo. C'è un rapporto importante tra verità e bellezza, un rapporto che dovrebbe essere investigato più in profondità, in quanto la bellezza vera è quella che proviene da Dio, che è la prima verità e bellezza. Ecco in che modo possiamo dire che la bellezza è forse più importante della vita, in quanto essa ci richiama alle leggi supreme e alle cose ultime.